Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi, la scelta giusta è l'app Mr. Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Trovi le biellette della barra stabilizzatrice e bolco usate in questo video solo sul sito Mr. Auto e nel link nella descrizione. Spegni l'auto e tira il freno a mano. Per cambiare le biellette della barra stabilizzatrice, bisogna sollevare la parte anteriore dell'auto e rimuovere le ruote. In tal modo potrai accedere al sistema di sospensione. Molla i bulloni delle ruote anteriori, solleva la parte anteriore dell'auto e appoggiala sui due cavalletti. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare prima il tutorial Sollevare l'auto in sicurezza. Dopodiché puoi togliere le ruote. Non dimenticare di metterle sotto l'auto. La bielletta della barra stabilizzatrice collega la barra stabilizzatrice agli ammortizzatori, per tenere le ruote sempre premute a terra. Gli elementi da rimuovere sono spesso bloccati. Per facilitare l'operazione, puoi spazzolare e usare dello sbloccante. Poi stacca e rimuovi la testina superiore della barra stabilizzatrice. Per farlo, prendi una chiave a gomito da 18 e una chiave XZN M6. Frenna la rotazione della testina con l'inserto XZN e usa la chiave per svitare il dado. Rimuovi il dado. Ripeti l'operazione sulla testina inferiore. Rimuovi il dado e poi anche la bielletta. Puoi sostenereci, clicca mi piace, sul video e iscriviti al canale. Trovi i pezzi e i prodotti bulk utilizzati nel video sul sito di Mr. Auto e nel link nella descrizione. Prendi la nuova bielletta della barra stabilizzatrice. Rimettila nel suo alloggio inferiore. Stringi il dado. Finisci di stringere usando una chiave dinamometrica. Poi inseriscila nella parte superiore. Rimonta il secondo dado. Finisci di stringere usando una chiave dinamometrica. Adesso puoi rimontare le ruote. Abbassa l'auto e stringi bene i bulloni. Operazione conclusa. Se questo video ti è stato utile, like e suscriviti al canale. Iscriviti al canale. Grazie per la visione!